Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Secondo quanto si apprende in queste ore dai media italiani, pare che il caso della povera Yara Gambirasio sia destinato a riaprirsi. Perché? Da quanto trapela e da quanto ha fatto sapere il criminologo Umberto Mendola dietro le sbarre potrebbe essere finito un innocente, ovvero proprio Bossetti. Il criminologo, che ha analizzato attentamente il caso dall'inizio e che ha compiuto un vero e proprio studio scientifico, è convinto che il processo potrebbe riaprirsi in quanto la prova fino ad esso considerata regina non esiste più. Si trattava del DNA, o meglio delle tracce di DNA trovate nei luoghi di indagine, DNA che sarebbe appartenuto allo stesso Bossetti. E su questo il criminologo ha le idee chiare. Fino all'anno scorso nella sentenza di appello, che è stata impugnata in Cassazione, la corte di Perugia sosteneva che non c'era necessità di andare a vedere ulteriori DNA, nonostante la difesa di Bossetti. La cosiddetta prova granitica, regina, ora non c'è più, si è sciolta come neve al sole. Finalmente si sono resi conto che effettivamente il DNA di Bossetti non c'è, queste le parole di Mendola. Insomma, secondo l'ipotesi qui riportata, è probabile che il tutto debba rivedersi alla luce di quanto sta emergendo. Ci sarebbero quindi ancora tantissimi dubbi sulla vicenda per cui adesso il caso potrebbe riaprirsi in maniera clamorosa. E se questi dati fossero confermati non è detto che la posizione di Bossetti possa essere rivista in toto. C'è quindi un altro responsabile nel decesso di Yara? Per 13 lunghi anni un innocente è stato rinchiuso in un penitenziario?